La società ha capito che può prendere possesso dell'impianto, il passaggio ufficiale ci sarà il 13, nello stesso giorno avremo l'incontro sia con la società sia con le organizzazioni sindacali per mettere in campo un cronoprogramma per far ritornare a lavorare anche lì i lavoratori che chiaramente dovranno essere una proposta che ci è stata anticipata e che sottoporremo alle organizzazioni per vedere se c'è possibilità di riassorbimento, però diciamo che almeno questa avvertenza l'abbiamo chiusa bene.